Grazie a tutti. Centrocampo a tre con Rizzini, Galeazzi e Andreoli, il Tridente, Samà, Nardo, Fadini. In panchina Brazzarola, Lioi, Giovanazzi, Galella, Celeghin, Piccolo e Pereira. Valent risponde con Mercadante tra i pali, Cotugno, Fava, Vittoriano e Troiano in difesa, Paini, Fallati, Giannico e Colombo a centrocampo, Marco Trombetta e Foti e il duo d'attacco. A disposizione Volonteri, Giovanni Trombetta, Dolgetto, Paterlini, Pozzoli, Pietra e Torricelli. Dirige Mario Cuomo della sezione di Sesto San Giovanni. Padroni di casa che avanzano ancora sulla tre quarti, Nardo cerca il dribbling e poi il sinistro con Mercadante che abbranca in presa. Ne ha ritrovato il possesso dopo il breve stop per concedere le cure del caso a Nardo che nel frattempo era rimasto contuso. Colombo, traversone, attenzione al colpo di testa in gol, è la rete di Foti. Gol di Foti, minuto 12, dominante, avanti al Superga. Troiano, Foti per Trombetta, colpo di testa in elevazione su Frassoni, Vrenna che blocca. Tutto pronto per il calcio di punizione del capitano, proverà la botta, eccola che arriva. Lontanissima però, dai pali di Vrenna. Adesso pallone sulla destra, dalla vecchia. Perde il momento buono per il traversone immediato. C'è Rizzini adesso, sfera per Nardo a centro dell'area di rigore. Contrato e poi Mercadante mette tutti d'accordo. Attenzione, pallone che in qualche modo schizza verso Trombetta. Condosù di lui, Trombetta lo salta, al destro di Trombetta a giro. Mugio che supera la propria metà campo, dalla vecchia avrebbe la possibilità di mettere in mezzo immediatamente. Lo fa in questo istante, fa Dini, Nardo e poi Fallati. Ancora la possibilità per il destro. da parte di Andreoli con Mercadante in corner. Possibilità del contropiede per Paini. Foti adesso, limite dell'area di rigore. Due difessori del Mugio a su di lui. Il sinistro di Foti con il corpo di Vrenna che devia la palla in corner. Colombo. Ecco la battuta al centro dell'area di rigore. Sveta Frassoni, poi ci prova Foti. Al volo, apprezzabile la conclusione di Foti. Vrenna c'è. Ultime speranze in questo primo tempo per il Mugio che si infrangono su Cotugno. E c'è anche il duplice fisco del direttore di gara. Squadra a riposo dunque. Foti sta concedendo il vantaggio alla dominante sul terreno del Mugio. Da un giocatore della dominante arriva a Motta. Ancora Nardo e poi il pallone di Galeazzi verso il centro avanti del Mugio. Attenzione, attraversa! Attraversa di Nardo e poi libera la difesa della dominante. Approfittare di questo momento favorevole. Un inizio comunque positivo. Un po' come nel primo tempo. Ancora Nardo messo in moto da Andreoli. Si gira a Nardo il destro con Mercadante che blocca nella finale di Agrate. Eccolo Trombetta. Si appoggia su di lui. Foti per il destro piazzato sul primo palo. Si distende Vrenna e sarà corner. Il suo primo pallone è toccato. Pozzoli con il destro. Cercare Foti sulla sinistra. Il numero su Cotugno. Foti limite di rigore. Foti il destro. Con Motta sulla sinistra e dalla vecchia sulla destra che spingono chiaramente ancora di più in questo secondo tempo. Occhio a Pereira, Mercadante. Buona la parata. Punizione di cui si occupa Stefano Rizzini. Arriva a fischio del direttore di gara. Batte Rizzini sul secondo palo. Nardo con il pallone che va fuori. Forse anche scheggiando la base del palo. Quando il Mugio beneficia di questa rimessa laterale. Attenzione. Piccolo in area di rigore. Il tocco sotto di Piccolo. Con il pallone fuori dallo specchio della porta. Da parte di Nardo dopo due minuti. Occhio al filtrante per Foti. Foti che alza il pallone del 2-0. Conto tutto il Mugio. A parte Vrenna nella metà campo avversaria. Foti che scatta posizione regolare. Foti su di lui. Motta. Foti. Foti con il sinistro. Cinquantesimo. Superato da dieci secondi. Dominante vicinissimo al primo successo della stagione. in campionato 1-0. Quindi la vittoria della dominante di Valent sul terreno del Mugio. A decidere al dodicesimo del primo tempo il gol di Foti. Sì. Tanti errori sull'uscita. Che noi cerchiamo di curare parecchio in settimana. Ma in realtà non è andata bene. E poi sul gol. Insomma. Il gol è una... Il gestito male della linea difensiva. Non entro nel merito. Poi ci entro nello spogliatoio nel merito. Però in realtà è un gol che non puoi prendere in questo tipo di partite. Insomma. Poi. Gli episodi fa la differenza qua. E devi curare tutto. No. No. Adesso non è il momento di contraccolpi psicologici. La seconda giornata. Anche perché stanno lavorando bene. Siamo passati in Coppa. Abbiamo vinto la prima. Oggi è uno scontro diretto dove alla fine può starci anche di uscire sconfitti. Quindi assolutamente no. Tiriamo sul morale subito da martedì e ripartiamo. Domenica abbiamo il Villa qua. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Però è chiaro. Anche la dominante. Credo che forse sia la favorita da un punto di vista tecnico. Probabilmente visto l'organico a disposizione. E quindi insomma vogliamo vincere tutti. Alla seconda giornata vogliamo vincere tutti. È chiaro bisogna... Ne riparliamo magari tra tre mesi. È chiaro che in questo momento vogliamo puntare in alto e prendere il massimo. Il massimo può essere il primo. Magari può essere anche il secondo. Chi lo sa. Vedremo. Non me l'aspettavo perché vuoi sempre vincere. Ma non si può sempre vincere. Quindi la sconvita deve sempre arrivare. Certo in casa ti brucia. Dobbiamo azzerare, ricominciare da capo e andare a prenderci tre punti in casa che domenica è importante. La tua scommessa Sascha Piccolo è entrato e per poco non segna. Sascha Piccolo è un giocatore che viene dalla Real Crescenzago a fatti regionali. Un giocatore che ho seguito e secondo me può fare bene perché sicuramente si ritaglierà il suo spazio. Peccato perché poteva fare un bel pareggio quasi al novantesimo minuto. Però il ragazzo si allena, volenteroso, un giovane promettente. Secondo me può fare bene. No, non è questione di mettere le cose in chiaro. La questione è, cioè io guardo sicuramente la mia squadra prima di tutto. Effettivamente le prime prestazioni non sono state eccellenti da parte della mia squadra. Ma io ho sempre detto che noi veniamo fuori dopo le prime due o tre giornate di campionato per la preparazione che facciamo. Poi se devo parlare della partita in generale posso dire che il risultato senza nessun problema poteva essere giusto anche un pareggio. Anche se alla fine secondo me abbiamo avuto tre o quattro occasioni limpidissime davanti al portiere che la chiudi e finita. Ma chi mi conosce sa sempre che io dico che per me la fase importante è la fase difensiva. Nel senso se hai una buona fase difensiva secondo me alla lunga non dico che sei apposta al 100%, però sei apposta a un bel 80%. Perché poi la fase offensiva secondo me noi abbiamo degli uomini che ci possono risolvere i partiti. Perciò sono molto fiducioso anche perché è un gruppo che secondo me possono giocare tutti quanti. Oggi è uno scontro comunque che secondo me dà importanza al campionato perché è comunque dopo magari lo 0-0 di settimana scorsa contro la neopromossa oggi venire a Mugio e vincere la partita è comunque importante. Io sono molto contento, i ragazzi sono molto contenti, il gruppo è un bel gruppo, Silvano è quello che deve fare. Quindi bene, bene così. Ritrovare Foti, Bomber dopo anche le sue vicissitudini è importante. Giovedì ha segnato su rigore, oggi ha segnato di testa, ha fatto un bel gol, l'ha lasciato anche magari qualche occasione. Mi auguro di arrivare alla fine come l'anno scorso e magari poi di tagliare un traguardo diverso. Ecco tutto qua. Grazie. 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 Grazie.